eh sì il forno allora siamo in diretta io sto riscaldando l'olio perché oggi si frigge buon pomeriggio amici di instagram e buon pomeriggio amici di facebook come mai è così scuro quel telefono mi vedo tutta scura è normale? si è normale aspettiamo che i nostri amici si colleghino aspetta eh ok aspetta adesso va meglio si si meglio oh mamma aiuto ok noi siamo anche tecniche quindi siamo un minutino in anticipo perché oggi c'è una merenda ciao carvena straordinaria sempre per lo spuntisofili cioè le ciambelle le ciambelle fritte con le patate ecco perché allora infatti io ho detto un buon pomeriggio ciao e poi dopo abbiamo ritrovato le patate perché ieri avevo detto ma le patate erano finite invece no perché adesso vi do un trucchetto cari amici benvenuti benvenuti ciao Eli ciao Francesco quando non abbiamo le patate fa niente però basta che abbiamo un preparato per il purè infatti io ce l'ho sempre a casa pronto perché mettiamo il purè adesso vi spiego come fare tranquilli buon pomeriggio ci scrivono buon pomeriggio ciao Eli oggi mi seguo da casa di mia sorella ciao Eli allora Claudia cosa state qui dicendo di buono oggi cuciniamo le ciambelle non vogliamo maneggiare allora cosa facciamo io dico l'impasto se voi siete pronti vi diamo un po' tempo per arrivare tutti non lo schiacciare non lo schiacciare perché questo impasto lievita poi si stende al mattarello si taglia si ritaglia Sofia taglia bene però no no spingi spingi forte no non si è tagliato ecco perché aspetta guarda devi spingere forte 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 perché così anche all'interno si taglia perfetto quindi lievita poi si stende si ritaglia e rilievita così Francesca mi siete mancate qui qui si ricomincia a lavorare quindi vedo la registrazione la Franci le graffe le graffe allora da noi in campagna le graffe napoletane mitiche con le patate queste sono con le patate queste sono con le patate con il purè di patate perché le patate rendono soffice l'impasto ma ma come confio questa allora i ritagli le rimasuglie dico io io le vado a friggere amici non si butta via niente anche se sono così sottili e staccate piano oh non si staccano allora guarda ciao ciao cosa faccio allora tu legge i commenti che allora facciamo le ciambelle chiamate anche grante con le patate fritte posso dare i miei paolino aspetta ciao dalla Germania siete bravissime grazie la france si sono ottime con il purè vai mamma ah guarda che sta combinando allora va bene la farina si sporca via no non le devi schiacciare allora per fare questo impasto scusate ma io ho questa tossina va bene li dico io gli orienti vai su dai si possono fare anche con il lievito madre dopo dici anche me allora per le ciambelle chiamate anche graffe ci serviranno 200 grammi di farina zero 200 grammi di manitoba una bustina di lievito di birra liofilizzato si poi 100 grammi di zucchero zucchero bianco zucchero bianco semolato o anche di canda va bene meglio bianco meglio bianco un uovo intero 50 grammi di burro fuso poi avremo bisogno di 50 grammi di burro fuso si 200 grammi di patate schiacciate ma se non le avete le patate schiacciate oppure 40 grammi di purè di patate o sciolto nel latte no sofia 200 grammi di patate lesse schiacciate poi lesse e schiacciate se non le avete mettete 40 grammi di purè di patate lo pesate e lo andate a sciogliere con 125 grammi di latte previsto dalla ricetta e un pizzico di sale io poi ho aggiunto è sciolto nel latte è sciolto nel latte eccolo qua e ho messo vaniglia e buccia di limone vedrete che profumo amici cioè provateci poi abbiamo chi volesse fare le ciambelle con lievito madre questo lo devo dire al posto della bustina liofilizzata di lievito può mettere 130 grammi di lievito madre rinfrescato da almeno 4 ore sono salate? sono dolci no perché io adesso guarda come si gonfiano una volta che saranno fritte io le passo nello zucchero e cioè ci vuole lo zucchero allora adesso aspetto che si ah vedi già sono dorate le devo girare ma se ci facevano la glassa? si possono fare anche con la glassa però se andate su sottinaincucina.it ci sono i donuts i donuts che possono essere fatti con la glassa cioè c'è già la ricetta sottinaincucina è un altro tipo di impasto sono dolci sono dolci sono dolci guarda come si gonfiano adesso vi faccio vedere io le voglio mangiare una certo certo che le mangi poi li ripasteremo nello zucchero poi se arrivano i cuginetti io li offro anche a loro perché non vedo l'ora di abbracciarli i miei nipoti ah prima di tutto vengono a giocare con me poi dopo fai con me si va bene però io con la mascherina li abbraccio sono emozionata va bene ma non dici che ti ha fatto questa pettinatura ah ma allora mi avete visto come sono gonciata mi ha fatto le trecce perché mi sono fatta lo shampoo siccome mi si è rotta la piastra cioè proprio così e poi aspetta volevo i capelli mossi Sofia mi ha detto mamma adesso ti faccio le trecce così dopo le scegliamo e verranno tutti i capelli ciao Salli ciao grazie io ho fatto la modella insomma ecco ciao grazie mi sembra una bambina vabbè ok vando alle ciance pensiamo alle ciambelle che profumo Sofia ma la grassa non la facciamo la grassa no perché questa è su quello con lo zucchero però io leggiamo su tinaicucina.it ci sono i donuts Angela con le grassi ma tutte queste cose le mangiate le regalate le mangiamo noi allora in verità le mangiamo noi prima di questa pandemia noi siamo una famiglia bella grande quindi le mangiamo tutti adesso un po' meno perché non ci potevamo vedere però adesso oggi si arrivano io le offro volentieri i miei nipotini però le cose un po' le congeliamo un po' siamo di buona forchetta si chiede guarda che braccio che ho messo su sembro Big Jim va bene vanno alle ciance poi ma mangiati una mela ma certo io oggi ho mangiato le fragole per merenda non si gioca col mangiare allora il mangiare si mangia poi vediamo un po' io sono ecco questa qui è pronta io la faccio scolare prima sullo scottex amici sulla caldo scottex la Franci sei bellissima tina ciao Sofì ti piace carmela che buoni Sofia me ne dai una certo vieni a casa mia dai vieni se venite sotto casa io calo il cestino grazie ma infatti bellissima questa acconciatura grazie che Sofia vuole sapere che è molto brava Angela buon pareggio e la ricetta ok guardate le belle per farvi vedere un po' ho fatto anche la striscia mamma la ricetta tieni ok aspetta devono andare nello zucchero tu dici la ricetta io metto nello zucchero così perché devono essere calde per essere passate 200 grammi di farina a zero 200 grammi di manitoba una bustina di levito di birra agliofilizzato 100 grammi di zucchero semolato quello bianco un uovo intero poi 50 grammi di burro fuso 200 grammi di patate lesse schiacciate oppure 40 grammi di purè di patate 125 ml di latte tiepido infatti il purè poi dopo si deve sciogliere nel latte e un pizzico di sale ecco qua io perché ieri non l'avevo letta tate chi volesse fare con lievito madre 130 grammi di lievito madre rinfrescato al posto del lievito di birra ok questa è una cosa importante ciao rosario ciao isabella ciao angela massà 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 hanno le ciambelle con lo zucchero sono le ciambelle con lo zucchero si 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 poi patrizia brava sofia belle elettricine mamma rosario oggi ho fatto le zeppole buone le zeppole anche quelle voglio dire angela stai bene veramente abbiamo tante bontà ragazzi elì oggi sono ospite a cena da mia sorella che bello elì dalla tua sorellina bravissima elì bravissima allora questi ritagli sofia qui non si butta via niente quindi noi dopo quando avremo finito io ci sono felice perché sei felice amore che sapessi guarda che la puoi mangiare volevo metterci lo zucchero non te la volevo togliere vai buon appetito eh ma se proprio devo io non posso invece perché questa mattina mi sono messa a dieta angela ci credete? belle ragazze per la ricetta allora allora io di solito la mattina mi piace mangiare il latte e il caffè no? giorni buon poveriggio buon poveriggio da betlemme da betlemme benvenuti rosanna che bello e che stai raccontando? allora io la mattina se non bevo il caffè non carburo cioè a me il caffè mi deve sbagliare oh oh questo lo so che amore mascotto certo sono fatto allora dove l'ho messo il piattolo? scotto me l'ho messo questa mattina indovinate un po' cosa ho dovuto mangiare per fare la dieta una bella tambo di camomilla perché il tè non mandava come ho fatto bravissima elì cioè proprio triste ero tristissima poi ho dovuto studiare con sofia le equivalenze quindi ero proprio uno strato a parte che io te ne stavo a dire perché sofia mi insegna la mattina allora dai ripeti la tabella del metro no dai su adesso faccio la figuraccia vai su dai su dai chilometro chilometro decametro decametro metro decimetro centimetro millimetro e quella quadrata è uguale basta mettere il 2 sopra oh bravissima oh vedi vedete maria sono brava per stasera faccio le piedine bravissima maria poi abbiamo grazie a saranno buonissime eccole qua vediamo un po' voi raddoppiate pure le dosi perché vanno a ruba amici vanno vuoi assaggiare vuoi assaggiare non posso non posso non mi corrompere non posso andrò all'interno che vuoto dai fin quando resisto pina che buone ciao pina ciao amici devo resistere sono brava anche perché ho una cognata che è dottoressa in alimentazione e quindi cioè io ero stata brava no 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 quanto ci metti a carla in grana pasticcera? a carla pasticcera un quarto d'ora neanche allora falla perché? ripiene le voglio si però poi devi affidare ah tu proprio vuoi fare quelle proprio a bomba ho capito va bene le faccio dopo con le saccatoche la saccatoche o la seringa no la seringa la seringa ce l'abbiamo non è qui non è qui adesso le dirà nel mio reparto dolci nella scatola degli stampi mannaccia come sveglia questa cosa è così grande che non so come prendere lo scottex più grande intanto così vai eccola qua buon appetito come ti inviglio palma buoni e brave grazie come ti inviglio va beh pensiamo al costume pensiamo alla linea stai a casa ma non ti avvicino al frigo perché sennò la prova a costume sarà un dejamore è come la canzone che ho fatto io uguale mamma mia devo diventare la mia frittella oh lei e che profumo amici che poi il limone la vai chissà chi vuole baci e grazie per le vostre ricette rifate la ricetta perché fidatevi cioè ve lo dico è da impazzire però per chi è come a dieta cioè per chi è a dieta come me diciamola la mattina si possono mangiare i dolci perché li consumiamo più in fretta no li smaltiamo più in fretta la mattina quindi domani mattina una lasciamela lì no col cappuccino no io vado in palanissima no pane e olio pane e olio stamattina sono stata brava no domani mi aspetta lo yogurt con i fiocchi d'avena che felicità va bene va bene comunque mamma questo questo è per te questo momento vai dimmi leggi leggi perché io non ci devo tira e dopo come fai a mettere tutto assieme come gli ingredienti allora il procedimento cosa facciamo allora mettiamo la farina facciamo un buchetto al centro e mettiamo l'uovo il lievito il latte il latte che è stato già sciolto perché noi da parte mettiamo il purè di patate se non avete le patate con il latte lo sciogliamo il latte deve essere tipidino mettiamo tutto all'interno della farina e iniziamo ad amalgamare tutto alla fine va il burro mi raccomando i grassi sempre alla fine negli impasti per quel poco che ho imparato da autodidatta anche i grassi vanno alla fine come il sale negli impasti quindi ciao grazie ciao grazie allora mi rende rigida molto Enrica ciao Piera buon pomeriggio ragazzi grazie buon pomeriggio a voi allora Sandra ricetta per favore allora adesso la ridico sto friggendo amici anche le rimasuglie perché non si butta via niente anche gli interni della ciambella ridire? sì allora la dico subito amici guardate tu te la ricordi? no allora 200 grammi di farina zero e 200 grammi di manicoba quella forte poi una bustina di lievito di birra leofilizzato oppure 130 grammi di lievito madre rinfrescato da 4 ore poi abbiamo messo 100 grammi di zucchero buccia di limone vaniglia un uovo intero 50 grammi di burro fuso alla fine vi raccomando 200 grammi di patate perché ci danno la sofficità della ricetta ma se non le avete mettete 40 grammi di pura di patate sciolto in 125 ml di latte tiepido un pizzico di sale poi un litro di olio per friggere e zucchero semolato poi alla fine per finire la ricetta io giro un attimo vedete anche dopo mamma scriverai gli inglesi su tienincucina.it ecco la pallina non si gira va bene dopo la giriamo per bene aiuto girati su su ma girano non comandi tu comando io e rettina come fai a stare a dieta con tutto ciò che è possibile appunto è proprio omicidiale va bene ma io credo che se togliesi i dolci sarebbe già tanto lavoro giusi mettici un po' di nutella io prima l'ho mangiata brava giusi bravissima la nutella questi sono perfetti io la mangiata prima la pari nutella sofia poi che ha fatto dopo pranzo io ho mangiato la mela perché cioè non pari nutella la resta sofia aspetta non pari nutella la fragola è nutella la fragola cioè me lo faceva proprio così a dispetto cioè aiutatemi perché non lo so lina buon poperiggio andiamo vabbè sopravviverò ciao daniela buon poperiggio belle anch'io le faccio qui mi serve questa qui mi serve questa qui mi serve questa poi abbiamo Anna si può usare il lievito di birra fresco allora se utilizzi il lievito di birra mettine 10 grammi anche 15 va va bene perché tanto questo lievito subito quello fresco va bene poi ricordate sempre la regola io perché non utilizzo tanto il lievito di birra ne metto poco 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 quindi meno lievito mettete e più tempo deve lievitare quindi tenete a mente questa cosa se mettete un cubetto diciamo che è molto molto lievito quindi anche in un'ora lieviterà poi adesso ve caldo se invece mettete meno lievito anche 5 grammi deve stare anche due due orette che hai fatto niente meno male che non ho visto altrimenti allora allora ciao piccola non mi saluti oggi ma non ti ha salutato Erzilia Erzilia scusaci non mi ha salutato scusami Erzilia scusaci Erzilia ma dove viene di mangiare perché è l'effetto ciambella che fa questa ciao Raffaele Sabrina ci sono anch'io mi dispiace Tina e Sofì ieri e oggi sono stata impegnata cosa stai facendo? allora tranquilla anche perché sul mio canale YouTube Tina Pigna ci sono le dirette tutte salvate e anche qui sulla pagina di Tina e Cucina quindi potrete rivederle quando vorrete aspetta voglio metterle vai piano però che c'è la pallina allora sì allora aspetta sì Sandra dopo mamma scrive la ricetta Angela certo Anna ok un attimo Tina non immagini quanto ti capisco grazie ecco capisci grazie Anna ah e prima non ho salutato nonna nonna scusaci nonna scusate è la ciambella Sofia mi va gli occhi sulle ciambelle salutiamo anche i nostri amici qui Vera Reitano ciao la nostra Giusy Franco e Gina salutiamo tutti ciao io le faccio con le patate e farina 00 va bene per Gina sì va bene va bene adesso quello che ci abbiamo in casa Maglena ciao anch'io ho fatto le ciambelle wow bravissima Anuela allora io vi dico una cosa io non avevo la manitoba oggi a casa la farina di forza ho fatto con la farina zero ma sono venute buone lo stesso Leonardo cosa mangi adesso che fai la dieta allora guarda la mia cognatina che è dottoressa in alimentazione mi aiuta molto e quindi mi dà le proteine la verdura a pranzo e carboidrato la sera perché quando si va a dormire si ci deve rilassare la pasta aiuta molto nel rilassamento abbiamo Angela sei bellissima sempre verdure e frutta sempre verdure e frutta e la mattina bisogna stare attenti vabbè ciao Loredana colazione salata e colazione dolce dimmi ciao Loredana dall'isola della Maddalena oh che bella Sardegna Laura ciao siete bellissime grazie grazie di cuore amici poi abbiamo ci scrivete anche voi da posti eccezionali ciao eccezionali ma come fai a girare le palline eh tanti sono un po' dispettose guarda eh però piano piano comando io non comandano loro questa è la cosa fondamentale questa è leggerissima c'è oh mamma oh mi hai detto con le bacchette oh ma lo scontro amore no adesso vado a buttare non mi far gridare io poi mi sono come la gallina dai no perché volevo far vedere però aspettavo eh amore io non volevo portare il piatto perché cioè ma devi prendere un tovagliolo grazie mamma prego io ce l'avevo proprio pensato io poi te lo ricordo eh certo grazie mamma va bene gloria ciao da Rimini Gina grazie se siete bellissime Liliana ciao bellezze sto non ce la posso fare rientrando dal lavoro prima vi guardo dalla macchina con oh carina un bacio grande Tina hai le trecce e oggi sono poca ontas ciao Isabella ciao vedi mi sono ricordata di chiamarti Isabella e non oliva vedi eh brava Sofia e oggi sono poca ontas sì 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 mi sento tanto poca ontas penso che proprio ce la posso fare sì Isabella il tuo pane è buonissimo grazie poi Mary che olio usi allora io ho utilizzato olio di semi di ginasole ma avevo quello l'olio migliore è quello di semi di arachide perché mantiene meglio la cottura e devo dirvi anche una cosa io per la mia dieta quando ero brava utilizzavo per le fritture l'olio extravergine di oliva perché è l'olio migliore per friggere perché sì Leonardo mamma la mangia la sera la mangia la sera la pasta non so come fa ma per il dara Sofia si è bellissima eh grazie però anche un po' la pasta io per fare prima non la mangio proprio faccio prima no mangio la proteina sempre io non ne prendo neanche una perché sennò dopo allora questi qui sono diciamo grazie ciao Daniela che bella la mamma con le tricine ecco poi abbiamo mamma mia quanti siete allora what are you doing what are you doing che cosa stiamo facendo stiamo facendo le ciambelle Isabella sono arrivata tardi cosa fate oh mamma hai fatto we are making oh mio dio che cavolo Sofia ogni tanto we are making si dice così donuts ciambelle ecco qua no nella farina sono buonissime cioè come hai fatto come ho fatto hai fatto tipo una come hai una una cosa magica perché puoi devo ripetere la ricetta sì amici allora guardate cosa facciamo mettiamo 200 grammi di farina manitoba chi ce l'ha 200 grammi di farina tipo zero non trovo più la ricetta aspetta si una bustina di lievito di birra ma se non lo avete mettete 130 grammi di lievito madre rinfrescato poi mettiamo 100 grammi di zucchero buccia di limone grattugiato vaniglia un uovo 50 grammi di burro fuso aggiunto alla fine 200 grammi di patate lesse schiacciate ma se non le avete va bene il purè quello che compriamo in polvere però l'ha sciolto con 125 ml di latte tiepidino ok mettiamo tutto dentro un pizzico di sale e facciamo l'impasto mettiamo a lievitare correranno circa un'ora un'ora e mezza adesso che è caldo non so da voi anzi un abbraccio agli amici milanesi perché hanno avuto dei problemi ieri sera un abbraccio virtuale a tutti per l'innovazione dei fiumi quindi ecco forza amici e poi facciamo lievitare dopo di che andiamo a stendere con un po' di farina così non attacca stendiamo il mattarello io poi ho questa formina qui per fare la bacca la bacca di vaniglia meglio per Isabella però va bene anche io ho la vanillina perché me ne è rimasta poco 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 la devo ricomprare va bene e già questo qui ma va bene anche dei bicchieri se non abbiamo delle formine va bene anche il bicchiere per intagliare quindi noi siamo siamo donne come si dice ce la caviamo sempre in cucina troviamo sempre una soluzione a Cristo troviamo sempre una soluzione e poi dopo cosa facciamo una volta che le abbiamo tagliate le ciambelle devono rilevitare per altri 15-20 minuti perché noi avete visto andiamo a stressare la pasta quando andiamo a ritagliare quindi un po' come si dice ammacchiamo l'alveolatura quindi che cosa facciamo le facciamo riposare formate e poi le andiamo a friggere l'olio sui 180 gradi mi raccomando io ho anche il termometro ma adesso faccio occhio ormai friggo sempre e poi cos'altro zucchero zucchero semolato o zucchero a velo quello che preferite Sofia attenta che succede? stavo leggendo i commenti leggi leggi i nostri leggi viole ciao Tina e un grosso bacione da San vendemiano ieri riso e besi era la ricetta della mia regione bravissima allora noi stiamo studiando le regioni con Sofia oggi è stata anche interrogata nel frulli Venezia Giulia è stata molto brava complimenti te lo dico davanti a tutti e quindi facciamo delle ricette regionali perché la vostra maestra Vincenza un abbraccio ci dà anche le ricette era bello studiamo in toto proprio le regioni adesso dobbiamo fare la Liguria l'abbiamo fatto tutta l'Italia settentrionale la Campania poi faremo la Campania infatti dobbiamo fare le cartine ecco ora la maestra Lorella ciao maestra Lorella ciao maestra Lorella c'è anche la maestra Lorella benvenuta Sofia sei un amore di ragazzine grazie Isabella grazie poi abbiamo Cindy ciao bellissime e poi che cosa ah e quindi abbiamo studiato il frulli Venezia Giulia e io volevo fare le fritole eh no? che le facciamo le fritole? aspetta manca il frico di patate lo dobbiamo fare lo so perché a noi piace tanto e quindi ecco proprio oggi l'ho detto la ricetta si è ricca c'è lo iota la iota correggetemi con i crauti beh l'Italia è ricca di ricette come tutto il mondo e io sono fiera di essere italiana noi siamo fiera anche Sofia e quindi abbiamo molte ricette amici molte ricette da fare ancora quindi seguiteci ciao Alba perché ci fa piacere ecco e poi cos'altro ah chiedo scusa non ho avuto tempo di mettere la ricetta risi e bisi ma la scriverò subito dopo Sofia perché ieri non ho avuto tempo grazie a fare tutte le altre cose grazie maestra ce la posso fare poi abbiamo Giovanna popoveriggio Deborah ciao grandi saluto da Livorno ciao saluto da Livorno poi abbiamo Tina la boscana già l'abbiamo fatta poi abbiamo Flora Tina hai una ricetta per fare una torta con il riso? la torta con il riso allora sì ho una ricetta della torta con il riso è similpastiera perché la faceva la mia nonna è del beneventano e se volete la possiamo anche fare nelle prossime devo fare ancora non avevo gli ingredienti la creme tart la dobbiamo fare non ce l'ho poi sì con il riso il posto del grano la possiamo fare ti posso dare la ricetta e poi cos'altro le ciambelle sono pronte io ecco se arrivano i cuginetti due le faccio mangiare sono contenta sono contenta torta dolce con il riso intendevo ah una torta dolce dolce sì 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 la torta che dico io è una crostata con all'interno crema ricotta riso al posto del grano ci sono 35 gradi friggere una cattiva idea ma buona anche qui è caldo però sai di fronte alle ciambelle poi abbiamo Giuseppe poi per voi ciao un bacio dalla Sicilia dalla Sicilia non ci siamo ancora arrivati a casa la Sicilia ci arriveremo perché adesso faremo l'Italia meridionale ciao Rita dalla Sardegna dalla Sardegna la Sardegna poi abbiamo Caterina ciao Caterina ciao bellissimi un abbraccio un abbraccio un abbraccio a tutti voi amici e grazie per seguirci ecco allora io direi di andare a scrivere la ricetta allora sì facciamola facciamola però prima di riscrivere la ricetta mi offre una piccola passeggiata Sofia vuole andare a fare una passeggiata voglio uscire allora noi adesso c'erbiamo di mascherina e andiamo sotto casa a passeggiare perché non è che mi posso partire oh mamma sono un po' sono emozionata io credo che lì c'era il mattarello no perché avevo visto qualcosa poi toglietemi queste da qui perché non le devo proprio vedere le porto in camera via no in camera no però c'erano mai lì sul tavolino pulisco io va bene quindi io vi saluterei qui e ci vediamo se vi va sempre domani domani è sabato domani è sabato facciamo un'altra ricetta ciao una ciambella una ciambella io guardate veramente col cuore io stavo leggendo io invierei se ci fosse un dispositivo ciao Anna io invierei le ciambelle in diretta oh è arrivato il dispositivo aspetta arrivo va bene scherziamo poi anche il profumo siamo così tecnologici vabbè ancora non abbiamo inventato ciao Giovanna ciao i profumi no in diretta i profumi in diretta mi piace ma scusa tu con tanti dolci che fai non puoi venderli questi dolci guarda salvo ciao mi sono appena collegata salvo Anita quindi Anita la ricetta delle ciambelle l'hai detta? la ridico per l'ultima volta grazie Attila sei veramente brava grazie per le tue ricette grazie 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 poi la allora come sta Scopiettino? Scopiettino come sta? è lievitino è lievitino perché Grazia ce n'ha due di lieviti molto brava continuate con i rinfreschi se lo state venendo quant'è che ci vediamo per come dire farle giocare insieme? facciamo conoscere bollicino quarantino con lievitino mamma allora 200 grammi di farina zero 200 grammi di farina manitoba una bustina di lievito di birra leofilizzato oppure se avete il fresco vanno bene 10 grammi poi se non avete il lievito chimico avete il lievito madre mettete il lievito madre 130 grammi di rinfrescato poi 100 grammi di zucchero buccia grattugiata di limone la zest un uovo intero una bustina di vanillina o la vaniglia in bacche meglio 50 grammi di burro fuso che va messo alla fine 200 grammi di patate lesse poi schiacciate ma se non le avete va bene il purè di patate sciolto 40 grammi di purè di patate sciolto in 125 ml di latte intero meglio un pizzico di sale un litro di olio per friggere gli arachidi meglio e zucchero sevolato per poi impanare le nostre ciambelle comunque la maestra Lorela dice che passa qui sotto casa nostra e dice che qualche volta di queste ci suona allora maestra io te l'ho detto ti do del tu quando vuoi tu passa io o calo il cestino o con la maschera ti faccio assaggiare le mie ciambelle o quello che abbiamo fatto in diretta così ci aiuti anche a mangiare volentieri poi abbiamo allora abbiamo Eli che ci aveva scritto la dimmi l'app che ti aveva proposto Eli almeno zoom l'app zoom però mi devo organizzare ho mio marito che è molto bravo e quindi mi organizzerò perché adesso per i corsi mi sa che ancora dovremo aspettare per incontrarci però ci organizzeremo per fare qualche videoricetta insieme qualcosa ci inventiamo dai o anche su instagram possiamo farla insieme vediamo allora grazie amici sono le 5 siamo anche puntuali abbiamo iniziato anche prima un abbraccio a tutti perfetto maestra io ti aspetto qui sotto te lo dico ti aspetto quando vuoi così io non le mangio non le vedo quindi noi vi salutiamo e leggiamo ah grazie basta chiudiamo chiudiamo e andiamo a camminare così io mi puoi scoprire che bello grazie va bene però se è piena dobbiamo si si certo adesso la sentiamo al telefono zietta allora abbraccio a tutta Italia a tutto il mondo ciao grazie perché un muscerino ciao eh si perché adesso fa caldo mettiamo la la pranzina per le zanzare allora amici non mi dilungo ancora ciao e a domani alle 16.30 io sto qui e tu stopi lì va bene ok ciao io mi risentano qua dove si va dove si va non vorrei lasciare